Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di ceci e funghi al rosmarino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa. Ingredienti sono funghi misti, ceci lessati, acqua, dado vegetale bimbi, rosmarino, olio evo, aglio, pepe e sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, l'aglio e il rosmarino. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliere l'aglio dal boccale. Aggiungere 150 grammi di ceci e li facciamo frullare per 15 secondi a velocità 8. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'acqua, i ceci, i funghi, i funghi, il dado, il pepe e il sale. e cuocere con il cestello al posto del misurino per 25 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La zuppa è pronta, impiattare e servire. Zuppa di ceci e funghi al rosmarino. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!